Il vice-ministro, gli ho mandato la letta. Neanche menzionati, neanche premiati. Sono stati gli operatori... Allora, siamo un sindacato degli OSS Human Carey SHC, abbiamo indetto una giornata di sciopera chiedendo al Ministro un incontro, poiché il Ministro non vuole riconoscere questa categoria nell'area socialitaria e oggi ci nega la possibilità di poter essere ricevuti e ascoltati e uditi sulla situazione, pur avendo mandato un invito. È una cosa vergognosa comunque, una cosa vergognosa perché gli infermieri li trova spazio, per noi questa categoria non ha spazio. Questa figura non è riconosciuta sia di formazione, perché comunque siamo rimasti vent'anni indietro, malgrado la categoria sia evoluta a livello di responsabilità, però non ci viene riconosciuto il ruolo sanitario. L'area sociosanitaria ancora, dopo più di due anni della legge Lorenzina, non ci viene riconosciuto, malgrado svolgiamo a tutti gli effetti un lavoro sanitario, siamo tecnici. Allora, io sono Lossi e sono qui per manifestare affinché ci venga riconosciuto il ruolo sociosanitario, che attualmente svolgiamo nei vari ambiti ospedalieri e quindi nei vari reparti e unità operative. Perché qual è il vostro problema rispetto a questo riconoscimento? Il nostro problema è quello che ci vengono richieste poi in mansioni che per legge noi non possiamo svolgere, ma che alcuni di noi poi svolgono. La richiesta è prima un riconoscimento professionale aria sociosanitaria, che la legge 318 ha già determinato, ma il Ministro non vuole fare un decreto attuativo per riconoscere questo tipo di situazione. Danno la possibilità a questa figura di avere un abuso di professione, nessuna regolizzazione totale della professione stessa, e tanto viene utilizzata come forza lavoro, ma non viene data la dignità professionale che in questo momento manca.